Ciao Vets, benvenuti in un nuovo episodio di FTB, Ultimate of FTB Il copper non viene fuori così, ma viene fuori così Quando lo cociamo viene fuori quella versione dell'industria craft Quindi questa qua è altamente inutile Però è intrascambiabile come tutti i legni Quindi siamo a posto Più che altro per l'inizamento c'è, smacchissene Allora Dobbiamo fare le porte per queste cose qua Mette qua il copper, così dopo iniziamo a fare l'iron No, le electric furnace Facciamo tutto, tutti i macchinari belli Così siamo a posto Allora Per fare quelle porte Dobbiamo fare questi blocchi qua Ta-da! Esatto, ho chiuso l'entrata Perfetto Ma è stata torta sbagliata Ta-da! Blocchi invisibili Noi li riusciamo a vedere dall'altra parte Ma gli altri non riescono a vedere noi Yohooo! Questa è la mod Mi sa che l'avete già capito Della Secret Room Una volta si chiamava Hidden Door Ma adesso l'ho chiamata così Perché è più figa Secret Room C'è Ma non c'è Diciamo che volevo fare un'altra cosa qua Però ok Può essere bello lo stesso No, fa cagare Via Gli useremo per un'altra cosa Perché le stanze segrete voglio farle Però magari più avanti Ma vi ho fatto vedere un blocco nuovo Quindi Auguri Allora Hai cotto Il ferro Cocciamo sto ferro Senza carbone La Andiamo a pezzare sto carbone Invece Nel generatore Così siamo a posto Infatti non sta bruciando più niente Andiamo a cociere anche questo Così facciamo gli altri macchinari Magari 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 Qua Allora Molto semplicemente Dovremmo fare L'electric Cosa e cosa L'unico problema Anche con sotto Devo pensare Tutti i fili Che belle le come Allora Ok Abbiamo le nostre cover Andiamo a dormire Allora Unica 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 Sto aspettando Sbrigati Buon questo si può fare Allora Molto semplicemente Mi serve la gomma Molto semplicemente Ti capito no? Molto semplicemente Dove è il mio tritri trap Eccolo qua Allora Gomma 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 Vaffanculo Allora prendiamo un po' di trit trap Trit trap Ci serve gomma Dove è il nostro sequel? Voglio la mia sequel E' perchè c'è un creeper là davanti Palle Sti creeper Allora Vi ricordo che Da questo aggiornamento Tra red power Si può tagliare anche le foglie Con la sequel Olè Abbiamo scoperto Un botto di gomma Questo è pieno Di gomma Olè Da quattro alberi Ne tiriamo fuori un botto E poi abbiamo altri alboscelli Così siamo a posto Guardate quanti cacchio di alboscelli Questa è rompere No Ok 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 Allora Mettiamo Un, due, tre, quattro 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 Ok Mettiamo Un, due, tre Un, due, tre Ci facciamo Ci facciamo una bella piantagione Di alberi della gomma Così siamo a posto Abbiamo un po' di Bone meal Ok Ok E vai Un, due, tre Quattro Quattro E qua abbiamo abbastanza gomma Per il resto della nostra vita Mi sa Poi mi farò un'altra sequel E siamo a posto Questo Questo Ok Ok No Troppo vicino Te creeper Oh La mia casa No 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 Olè Che bello Uccidere creeper Con sta ascia Hai finito tu Dov'è? Qua Ok Cuociamo anche questa gomma Magari ne facciamo Otto Giusto per Con niente di carbone Ok Perfetto Allora Vai dentro Cuociti Allora Noi abbiamo questo qua Abbiamo questo qua Ci manca la gomma Ma per il momento Siamo a posto Andiamo a farne altri di questi Magari Altri ancora Questi qua Ne copriamo uno Per il momento Perché abbiamo saltato quello E lo portiamo dal generatore Sì 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 Così dico Via Sta Cover E abbiamo un cavo Dove è finito Dovrei avere del legno A che parte Mi serve Quel poco legno Per cuocere sta cosa Madonna Ne ho tantissimo Allora Perfetto Facciamo un po' di carbonella Questo ferro lo teniamo a ferro normale Questo qua ha fatto Me ne servono altri Tre E magari ne facciamo altri Me ne servono sei Dobbiamo fare i macchinari Qua Qua ci sarà L'Electric Fornas E qua Il nostro Estrattore Sempre utile Vi ricordo Mi sa che faremo prima L'estrattore No Solo uno Vai Ecco C'è anche te Perfetto Allora Facciamo subito L'estrattore Per l'Electric Fornas Cioè Non è utilissima Per adesso Extrattore Quattro di questi Machine Block Electronic Circuit Semplicissimo Allora Machine Block Semplice Electronic Circuit È un po' più complicato Perché ne abbiamo Solo 5 Ok Ho perso il colore Perché ho il colore Questo qua Perfetto Con La Redstone Che abbiamo qui E questo qua Perfetto E Machine Block Quello là E ci servono Questi Ho sbagliato Questi qua Ce ne servono 4 1 2 3 4 Giusti 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 Ok Eccolo qua Eccolo qua Eccolo Qua E questo qua Perfetto Extrattore Così possiamo Estrarre la gomma Va lento Ma almeno Ci da 3 di gomma Invece che 2 Invece che 1 Se ave carbone Altro che Si adesso Va lento Perché prima Deve riempirsi Questo Poi deve riempirsi Questo Con calma Va lento E qua mi serve Carbone Altro Altro carbone Ok Però allora Ora iniziamo L'altra Cosa Che è il Electric Fornace Siamo Un electronic Circuit Una Fornace Elettrica Ecco qua Della Redstone E un electronic Circuit Molto semplice Perché ho Iniziato a fare Questa cosa Ok Mi serve Una gomma L'hai fatta Una Va Ti adoro Ma che cazzo Ha il mio mouse Oggi Che Va la Merde Bastardo Ok Electronic Iron E Questo qua Ormai lo sapete fare Credo Se avete visto i primi episodi Se non avete visto i primi episodi Questo qua È L'industriacraft E questo qua cuoce Ed è Molto Molto Veloce Ci vorrò Una lette lenta Perché Anche lei Può avere Le aggiunzioni Però È pur sempre Più veloce Di questi Perfetto E anche questi macchinari Sono fatti Allora Un'altra cosa Queste cose qua Devo mettere via Le stafonaci in poche provare Sono inutili Adesso Quindi Prendiamo tutto il carbone Che è rimasto E lo mettiamo dentro qua Prossima volta Dobbiamo iniziare a fare La fonte di energia Quindi preparatevi Che No Prossima volta Mi sa che andiamo a minare E lo velocizzo Con le musiche Quindi tranquilli Invece Se riesco Perché Non sono bravo Per risistare il video Con Sony Vegas Quindi Altro Sì Abbiamo un bel po' Di coppere Ok Abbiamo due cd Non mi sono neanche accorto Andiamo a vedere Le nostre coltivazioni Intanto C'abbiamo sotto casa Quindi Crescono Abbastanza velocemente Quindi Per questo episodio È tutto Da dj Linea lo studio Puchu